Prego. Spero di essere brevissimo, Presidente. Premesso che chi ha firmato questi accordi sono dei veri e propri criminali, ma noi siamo abituati, voi politici avete il pelo sullo stomaco e degli interessi dei cittadini non vi interessa nulla. Io voglio essere molto chiaro. Spesso sentiamo parole come fiscal compact e mess, ma gli italiani oggi sono a conoscenza del significato, sanno qual è il senso. L'unica cosa che ci è dato sapere è che siamo in crisi e che abbiamo un debito enorme e che i cittadini devono pagare sempre più tasse. Inoltre sappiamo che le aziende chiudono e che il numero di disoccupati aumenta ogni giorno, come il tasso di povertà degli italiani, ma questo per noi cittadini è scontato, visto che le situazioni le viviamo sulla nostra pelle. Il Parlamento dovrebbe essere il fulcro della democrazia. Gli accordi con l'Europa che impongono all'Italia i vincoli di bilancio e che cedono sovranità popolare, che di fatto impoveriscono il Paese delle conseguenze politiche recessive, sono stati approvati dal Governo Monti, con modalità dir poco anomale. Una su tutto è il DDL costituzionale che impone il pareggio di bilancio in Costituzione, che è stato votato con maggioranza di due terzi, escludendo di fatto la possibilità di procedere al referendum di rivoluzione costituzionale, previsto e disciplinato dall'articolo 138. Come disse Paolo Becchi, professor di filosofia del diritto all'Università di Genova, non è la prima volta che la Costituzione subisce modifiche senza il ricorso allo strumento referendario, per semplice colpo della maggioranza che per la prima volta alcuni articoli della Costituzione vengono cambiati in un'atmosfera tanto silenziosa, senza alcun coinvolgimento dell'opinione pubblica e senza una reale discussione politica. In sostanza, abbiamo un cappio al collo a tutto il Paese. Nel giro di pochissimi mesi abbiamo delegato a strutture sovranazionali le politiche economiche. E ora ci troviamo in un Paese in macerie, che non ha nemmeno il diritto di spendere i soldi necessari per assicurare una vita dignitosa con tutti i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale che ci imporrebbe. Non importa che la gente si suicidi, la disperazione delle famiglie imperi, che i giovani non abbiano prospettive e quel che conta sono i diktat dell'Europa e la sua influenza, a tal punto che l'occhio dell'Europa è entrato persino nel Parlamento con l'istituzione di un organismo previsto dall'articolo 5,1 della legge costituzionale del 20 aprile 2012, che viene denominato ufficio parlamentare di bilancio avente funzioni di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio. Tutta questa invadenza di Bruxelles a cosa è dovuta? Siamo stati interpellati noi cittadini sul fare o meno su entrare o meno nell'Unione monetaria? Siamo stati informati sugli effetti sociali che hanno comportato e comporteranno i trattati europei ratificati dal Parlamento italiano? L'informazione ha fatto il suo dovere, diffondendo conoscenza? Io direi proprio di no. La complicità dei media e dell'intera classe politica, insieme all'inettitudine dei partiti, hanno realizzato un vero e proprio golpe silenzioso nel giro di pochissimi mesi. Ora tocca a noi cittadini nelle istituzioni a rivelare l'inganno con questa mozione, a proporre al Governo una radicale modifica dei trattati. Voi, e lo dico con tutto il cuore, per fare un piacere a tutti gli italiani e per dover essere scusati per tutte quelle porcate che avete firmato, dovete andarvene immediatamente tutti a casa. Grazie.